Ben trovati, ben trovati, un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Questo è il corso introduttivo ad Adobe After Effects Nuova lezione, nuova puntata di questo videocorso che ormai dura da un po' di tempo in cui stiamo imparando le basi di After Effects Non è un corso per professionisti, non è un corso per chi già conosce After Effects Se siete bravi con questo software o avete già smanettato non troverete molte altre informazioni Ma se non avete veramente mai messo mano ad After Effects e volete capire come funziona questo software questo è il corso che fa per voi Siamo già avanti con le lezioni, oggi parleremo delle precomposizioni Che cosa vuol dire precomporre, quando bisogna precomporre, quali conseguenze porta con sé, eccetera eccetera Vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it Sul sito troverete anche l'articolo di questa lezione Troverete anche news dal mondo dei media e della tecnologia in generale Iscrivetevi a questo canale YouTube se ne avete voglia e se vi fa piacere mettete anche un like E cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi Bene, parliamo di composizioni e di precomposizioni per essere precisi Creiamo del materiale subito con cui lavorare Quindi per esempio creiamo un testo Testo di prova Lo rimpiccioliamo un pochettino Troppo grande non va bene Lo centriamo Ok? Tutte cose che già abbiamo visto nelle lezioni precedenti Bene, creiamo anche una forma geometrica da utilizzare come sfondo Per esempio così Portiamola ovviamente in basso in maniera da rendere il testo visibile E centriamo anche la nostra forma geometrica Ok Noi qui possiamo fare quello che vogliamo Per esempio possiamo animare il nostro testo Quindi potremmo voler animare Non so, per esempio la posizione di questo testo Aggiungiamo un keyframe Aggiungiamo un secondo keyframe E come abbiamo già imparato a fare nelle lezioni precedenti Abbiamo creato la nostra animazione Facciamo la stessa cosa Con la posizione della nostra forma geometrica Quindi tasto P per selezionare la proprietà posizione Aggiungiamo un keyframe Aggiungiamo un secondo keyframe Per esempio facendolo salire E questo è quello che abbiamo Olè! Ok, si può fare meglio Si può sistemare Mi serve solo per avere del materiale con cui lavorare al volo Eccolo qua Bene A cosa serve precomporre? Precomporre è una tecnica Che sostanzialmente ci permette di Prendere questi due livelli E annidarli dentro ad una seconda composizione Faccio vedere cosa vuol dire E poi vi spiegherò come si fa Seleziono i due livelli Scelgo precomposizione Ignoro tutto per il momento Do il nome alla nuova composizione Per esempio precomp Ok E come potete vedere Io ho preso i due livelli Che erano prima Sulla mia composizione principale E li ho annidati Dentro ad una seconda composizione Se vado a buttare un occhio al mio progetto Qui abbiamo la mia composizione principale Che chiameremo master Per esempio E all'interno della mia composizione principale Master Abbiamo la seconda composizione Chiamata precomp Eccola qui Ok? Se io vado a vedere dentro a questa Composizione appena creata Riabbiamo il materiale Che abbiamo visto prima Quindi il testo E la forma Quindi sostanzialmente Precomporre Vuol dire Prendere del materiale Prendere dei livelli Raggrupparli Tutti insieme In una nuova composizione Perché può essere utile fare questo? Può essere utile perché Se lavorate per esempio Con tanti livelli Ora qui siamo fortunati Lavoriamo con due livelli Ma immaginate per esempio Di iniziare ad avere Un video Ok? Immaginate di avere Della grafica di altro tipo E tante altre animazioni Potreste lavorare con 10, 15, 20 O anche più livelli Bene Precomporre È un modo per Organizzare Quindi prendere il materiale E dire bene Quello che riguarda La grafica Del testo di prova Lo voglio mettere insieme Quindi il fascione Di background E il testo E lo voglio annidare In una composizione nuova Quindi lo chiamo per esempio Testo Ed ecco che ho Il video Come sfondo E il mio testo di prova Come livello principale Come livello In avanti Rispetto a tutto Se io vado a vedere Dentro a questo livello Trovo ancora una volta Il mio testo di prova Così come era Originariamente È un po' come Quando in Photoshop Create i gruppi Ok? O Facciamo un esempio Che magari tutti Possono capire Sul vostro computer Avete tanti file E decidete di raggrupparli In cartelle Per sapere Più rapidamente Dove recuperare Il file Che è di vostro interesse Quindi la prima funzione Per precomporre È quella Di portare ordine Fare chiarezza Quando si lavora Soprattutto con molto materiale Non solo Quando lavoreremo E lavorerete Con effetti Più complessi Ne parleremo Degli effetti Nel prossimo video Non vi preoccupate Ma quando lavorerete Con delle tecniche Per creare Degli effetti speciali Molto complessi Alcune tecniche Chiedono proprio Che il materiale Venga precomposto Perché magari Bisogna applicare Un effetto In una certa maniera Non a tutti i livelli Ma solo ad alcuni Quindi diciamo Che precomporre Aiuta a lavorare In maniera Molto più precisa Sul materiale video O grafico Con cui stiamo lavorando Come si fa a precomporre L'ho fatto Ma ve lo faccio Ovviamente Rivedere CTRL Z Torno indietro Innanzitutto Devo selezionare I livelli Che voglio precomporre Quindi in questo caso Il mio testo È la mia forma geometrica Poi ho tre strade Da poter percorrere O tasto destro Del mouse In un punto Qualsiasi Dei due livelli Selezionati Sopra I livelli selezionati E scegliere La voce Precomposizione Oppure Il tasto di scelta rapida Che io consiglio Perché la scelta Più veloce CTRL SHIFT C Ok Oppure La terza strada Da poter percorrere Ugualmente valida È andare nel menu Livello E in fondo Trovate la voce Precomposizione Qualunque sia La scelta Che voi Verso cui Vi indirizzate Perché era una composizione Questa è la finestra Che compare davanti ai vostri occhi È abbastanza intuitiva Ma la spieghiamo Perché qualcosina da spiegare In questo caso c'è Abbiamo ovviamente il nome Che noi vogliamo dare Alla nuova precomposizione Ok Quindi in questo caso Testo Ok Aspettate che non si vede bene Ok Dicevo in questo caso Testo Di prova Questa sarà Questo sarà il nome Della composizione Che stiamo creando Al cui interno Troveremo Questi due elementi Poi abbiamo due voci Tra cui scegliere E inizialmente Queste due voci Possono creare Molta confusione Uno È chiamato Lascia tutti gli attributi In composizione Uno La seconda voce È chiamata Sposta tutti gli attributi Nella nuova composizione È abbastanza Esplicativo E se leggete Viene anche spiegato Quello che succede Per il momento Lasciamo tutto così Lasciamo tutte le impostazioni Così come le troviamo Di default E clicchiamo su ok I nostri due livelli Vengono precomposti In una nuova composizione Bene Andiamo adesso a vedere Quelle due opzioni Di cui abbiamo appena parlato Ovvero Lascia tutti gli attributi In composizione Uno Oppure Sposta tutti gli attributi Nella nuova composizione A cosa servono? Bene Come potete notare La prima opzione È disabilitata Perché in questo caso Non è applicabile Ma facciamo un esempio Con il video Che è al di sotto Quindi facciamo una cosa Precomponiamo questi due livelli In maniera da poter Per esempio In questo caso Voglio nascondere Il testo Dopo aver precomposto Come potete vedere Mi basta un click Per poter nascondere il testo Se io mi trovassi In questa situazione Eccola qua Se io mi trovassi In questa situazione Dovrei selezionare Entrambi i livelli Per poi andare A A A nascondere Se Siamo fortunati Sono due livelli Ma se ne avessimo avuti 50 Capite da soli Che il problema È È un pochettino Più complesso Da svolgere In pochi secondi Dicevo Vediamo cosa vuol dire Spostare gli attributi Questo è il nostro video Già visto In altri tutorial Di un elicottero Che prende il volo Ipotizziamo che Noi su questo video Abbiamo deciso di fare Della color correction Ora non vi preoccupate Se non capite Quello che sto facendo Ne parleremo meglio La prossima settimana Però ipotizziamo Di aver messo Su questo Su questo video Di aver applicato Della color correction Quindi per esempio Le curve Abbiamo dato un po' di contrasto Non troppo Abbiamo Non so A titolo di esempio Tolto un po' di rosso Abbiamo aggiunto Un po' di verde Magari abbiamo applicato Anche un filtro Fotografico Per dare un look Differente alla nostra scena Quindi correzione del colore Filtro fotografico Ecco qui Ipotizziamo di essere In una situazione Simile a questa Ok? Abbiamo applicato Della color correction Alla nostra clip video Bene Ipotizziamo Di voler Precomporre Questo video Perché magari Vogliamo tenerlo da parte E isolarlo Da tutto il resto Della composizione Quindi abbiamo visto Control Shift C E qui vedete Che appare La prima delle due opzioni Che ci dice Sostanzialmente Lascia tutti gli attributi In composizione 1 Ok? La seconda dice Sposta tutti gli attributi Nella nuova composizione Se noi lasciassimo le cose così Quando creiamo La nuova composizione Vedete che Non abbiamo più i parametri Della color correction Che abbiamo impostato Ma se entriamo Dentro la composizione Appena creata Il nostro video Conserva I parametri Della color correction Appena applicata Torniamo indietro E vediamo cosa accade Invece con l'altra opzione Ovvero Lascia tutti gli attributi In composizione 1 Clicco su ok Come potete vedere I parametri Della color correction Sono stati applicati Non più al singolo video Che è qui all'interno Ma direttamente All'intera composizione Nuova composizione Che abbiamo appena creato Perfetto Questa in estrema sintesi È la precomposizione Ok? Poi dipende Dal tipo di effetto Dal tipo di tecnica Che utilizzate Le precomposizioni Possono essere applicate In vari modi Stiamo dando giusto Un'introduzione Al che cos'è Una precomposizione E perché può essere Molto utile L'ultima cosa Su cui vi voglio concentrare È un'importante funzione Che trovate Accanto al nome Del livello In questa colonnina Ok? Dove abbiamo La possibilità Di evitare Che la precomposizione Tronchi Il nostro materiale Non è molto chiaro Effettivamente Ve lo spiego subito Con un esempio Qui abbiamo Il nostro testo di prova Ok? Facciamo finta Che questo testo di prova Sia molto più grande Ok? Di così Quindi lo ingrandisco Di tanto Lo centro E a questo punto Io vado a precomporre Ancora una volta Lo sfondo blu Con il testo Tasto destro Precomposizione Lo chiamo testo E via Ora se io andassi a muovere E a spostare Questo livello Essendo una composizione Noterete che il testo È troncato E questo potrebbe essere Un problema Perché noi magari Abbiamo deciso Di fare una precomposizione Ma per qualunque motivo Vogliamo muovere tutto E mostrare quello che c'è Al di là Della composizione creata Come fare? Bene Dicevo che se guardate Accanto all'ome Della composizione appena creata C'è una funzione Se andiamo a leggere Cosa c'è scritto Sul nome di questa colonna Leggiamo Per il livello composizione Comprimi trasformazioni Ok? Questa è la cosa che ci interessa Per il livello vettoriale Rasterizza in modo continuo Non ci interessa Il livello vettoriale Ci interessa il livello composizione Comprimi trasformazioni Bene Non è molto chiaro Ma vediamo cosa fa Clicchiamo Apparentemente nulla Ma se adesso vado a spostare Notate che il testo Non è più troncato Quindi questa opzione Ci permette di indicare Ad After Effects Se la composizione Appena creata Deve essere troncata Rispettando la dimensione Ovviamente della composizione Oppure se vogliamo mostrare Tutto il materiale Che c'è dentro A prescindere Dalla dimensione Della composizione Che abbiamo appena Appena creato Può sembrare complicato In realtà Giocate con queste cose Vedrete che Prendendoci la mano In realtà è tutto Molto più semplice Di quello che Può sembrare Poi in realtà L'esperienza Nell'utilizzare Questa tecnica La precomposizione Vi insegnerà Quando e come Adoperarla Al meglio Più avanti Quando parleremo Degli effetti E vedremo Nel corso avanzato Che uscirà Più avanti Alcune tecniche Alcuni effetti Speciali Vedrete che Precomporre È l'unico modo Per poter realizzare Degli effetti Molto avanzati Per il momento Mi fermo qui Nel prossimo video tutorial Nella prossima lezione Parleremo Degli effetti video Oggi abbiamo visto Qualcosina Applicato al nostro video Un po' di color correction Ma nella prossima lezione Vedremo nel dettaglio Come applicare gli effetti Come modificarli E quanti effetti Esistono In after effect Davvero Tanti 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 Ma ne parleremo Nel prossimo video www.fabioambrosi.it Il mio sito internet Fateci una capatina Iscrivetevi A questo canale youtube Mettete un like Seguitemi su facebook Anche La pagina Come sempre È Fabio Ambrosi Grazie Al prossimo Video tutorial